Quando qualcuno racconta una storia, crea un intero mondo. E di solito i personaggi rimangono lì. Ma la leggenda narra di personaggi così reali... Con il pastello tutto è possibile! ...da entrare direttamente in questo mondo. Vediamo come funziona nel mondo reale. Viena! 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 Questo sì che è creativo. E' spaventoso. Sì, spaventoso, spaventoso. Vola! Dio in alto! Ok. Sto diventando molto bravo! Sì, spaventoso! Che cosa pensavi? Oh no, in realtà io non penso molto. Vero! Vero!